Otey, pray to make us go away, oh we sell the clowns around it, look like circus show, like this is not the album either, these are just the always, wishes Ciao a tutti maghi e maghi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Magic e oggi ragazzi siamo sui minigame Più precisamente oggi ragazzi andrò a fare il mander, quindi direi entriamo subito nella lobby Sto utilizzando Hypixel come server, quindi se volete entrare anche voi e poi potremo giocare insieme, entrate pure Quindi siamo degli innocenti ragazzi, iniziamo subito, allora qui ogni 10 lingotti d'oro noi avremo un arco Ho visto che hanno messo delle nuove mappe, ok il marder è fatto fra 3, 2, 1 e il marder è partito, l'assassino inizierà a inseguirci Infatti sento già che sta uccidendo, non riesco a trovare neanche un lingotto d'oro ragazzi, manco così Eccolo qua, 1, ne ho visto un altro qui, 2, questo qua è FK, non so quanto gli convenga starci Benissimo, siamo già a 4 lingotti d'oro, perfetto ragazzi, ci è andata proprio di culo, abbiamo beccato lo spawn esatto Questo qua è morto praticamente, con gli occhi rossi poi pieni di sangue Allora, siamo a 5, ce ne mancano 5 ragazzi, 5 lingotti e possiamo già avere il nostro arco per provare a far fuori Ehi tu, stai buono eh, non farmi incazza, teniamo in mano, oh i blocchi, sì teniamo in mano l'oro così almeno diamo meno sospetti ragazzi Allora, ne abbiamo 6, ce ne mancano 4, speriamo di trovare, ok eccolo, eccolo, lo vedo, mio, oh 1, 2, 1 e 2, perfetto Ce ne manca, oh qua ce n'è un altro, ce ne manca 1, ce ne manca 1, abbiamo il nostro arco ragazzi, eccolo qua, l'ho visto E, perfetto, abbiamo l'arco, eccoci qua, una sola freccia, una sola freccia, quindi abbiamo una sola possibilità di uccidere il killer Vediamo eh, se riusciamo a trovarlo Eccolo ragazzi, l'ho visto, l'ho visto, è lui Mannaggia L'ho visto, l'ho visto ragazzi, eh no, non ci scappa eh Adesso proviamo a uccidere, eccolo là, è lui No, no ragazzi, no, che mira di merda cazzo, mi ha ucciso, mannaggia Ragazzi, io direi, facciamone subito un'altra, allora, ancora innocenti, siamo ancora gli innocenti ragazzi Non mi è ancora capitato di essere l'assassino, non mi è proprio capitato ancora, però, vabbè, pazientiamo, magari ci capiterà Quindi, eh, ah ok, qua, qua io potrei prendere il carrello, non l'ho vista prima questa mappa, però ci serve uno di oro Per scappare da una parte all'altra della mappa, è fighissima sta cosa ragazzi Eh, mi è piaciuto un casino quando l'ho provata prima Quindi, oh, oh, un lingotto d'oro, perfetto, uno, nostro Eh, due, un altro qua, subito, benissimo, prendiamolo e siamo a due Ce ne mancano otto ragazzi, non sarà facile trovarli Oh, 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 l'ho visto, l'ho visto qua, qua, mi segue, mi segue, mi segue, via, 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 via L'ho visto L'arco, dobbiamo riuscire a prendere l'arco Ok, l'ha preso uno Uccidetelo, uccidetelo, l'abbiamo visto tutti L'abbiamo visto tutti che è stato, io intanto mi prendo l'oro Così riusciamo ad avere anche noi l'arco Ci ha ucciso ragazzi, ci ha ucciso, non l'abbiamo fatto in tempo Ragazzi, è figo anche spettare la gente Questo qua qui camperato con l'arco che aspetta l'assassino Che è lì, vedete Oh, gli ha lanciato la spada Eh, l'assassino ha perso la spada ragazzi, gliel'ha lanciata Quindi adesso deve essere una bella sfida Ah no, ce l'ho ancora in mano Figo, ho visto che gliel'ha lanciata Ok, lui gli ha sparato ma niente da fare Ora non ha più frecce in teoria perché devi prendere altri lingotti Oh, perfetto, abbiamo vinto noi innocenti Bravissimo GG, bello mio, GG Perfetto Facciamone subito un'altra ragazzi Siamo ancora degli innocenti E vabbè, fa lo stesso Noi proveremo a farcela comunque Volevo darvi una news ragazzi Mi arriva il computer nuovo PC fisso Una bomba mi arriva L'ho preso su Amazon E dovrebbe arrivarmi in questa settimana Perché parte lunedì la spedizione Quindi penso che Tanto io sono qua vicino ad Amazon Sono proprio lontano Quindi penso che in uno o due giorni Dovrebbe tranquillamente arrivarmi il computer E potrò iniziare le live Faremo le live tutti insieme Anche sui minigiochi Quindi ragazzi Tenetevi pronti Preparatevi Perché non aspettavo altro Mi arriva anche la nuova connessione Come vi avevo detto che l'avrei fatta E infatti potrò fare live tranquillamente Senza lag o senza problemi Si spera Perché qua dove abito io Bisogna vedere Loro mi hanno detto che la linea c'è In upload Arrivo fino a 8-10 mega Quindi in teoria Non dovrei avere problemi E non vedo l'ora di farlo Voi tenetevi pronti Mi raccomando Se non avete Minecraft Scaricatelo Perché giocheremo tutti insieme Ai minigiochi Farò anche altri live Su altri giochi Perché giustamente Con un computer più potente Potrò avere altri giochi E non porterò più Solo ed esclusivamente Minecraft Anzi Se avete qualche gioco carino Consigliatemelo qua sotto Che io molto volentieri Ripeto Lo scaricherò E lo proverò E se sarà bello Lo porterò sul canale Volevo ricominciare anche Kingdom Non so se vi ricordate Lo facevo agli inizi del canale Che mi piaceva molto Quindi fatemi sapere Se può piacervi E se può farvi piacere Io lo riporto più che volentieri Perché comunque Ora io lo scaricherò E ci giocherò Per i fatti miei Ho visto l'assassino È lui L'ho visto Aveva in mano la spada L'ho visto Quindi stiamo lì lontani Ci manca solo un pezzo d'oro E avremo l'arco Quindi ragazzi Fatemi sapere Se può farvi piacere Io lo riporterò volentieri Sul canale Riusciremo No Oh il detective Ha perso l'arco Quindi deve essere Oh l'ultimo lingotto Eccolo qua Preso Ho visto anche l'assassino Stiamo qua Attenzione È lì Lo vedo PEM No Bastardo Bastardo C'è scappato Via 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 Dobbiamo recuperare Ah mannaggia Ci ha ucciso Porca vacca ragazzi Che mira di merda abbiamo Facciamone un'altra Questa volta volevo fare Una partita un po' camperona Sempre se ce la facciamo Che non ci uccidono subito Il murder parte fra due secondi Uno Benissimo Il murder è partito Allora Io direi Troviamoci un bel posto Dove potete stare nascosti Qua c'è un pipistrello Allora Dove potremo nasconderci Questa mappa è la prima volta Che la faccio Non l'ho mai fatta Oh 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 Stammi lontano Bastardo C'ho una caga qua ragazzi Potrebbe essere chiunque Oh 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 Sei assassino tu? No Allora Non trovo neanche un lingotto Qua cosa è successo? Ah ok Niente Le notizie L'ho visto L'ho visto Vai di sopra Vai di sopra Porca vacca Erano teletrasporto quello lì Due di gold mi servivano Niente Facciamone un'altra Perché questa ne dura proprio Eccoci qua ragazzi E siamo ancora Innocenti Un'altra volta Io non ne posso più Di essere un innocente Almeno fatemi fare Non dico l'assassino Ma fatemi Almeno fare lì Il poliziotto Quel cazzo che è Perché fighi Basta Allora Vediamo Abbiamo due lingotti Andiamo di recuperare Allora Qua è figo Perché qui io Facendo così Posso farmi Una pozione Che è misteriosa Facciamo così Abbiamo 20 secondi Di velocità Ragazzi Vedete È fidissimo Questa cosa Prima ho beccato Quella dell'invisibilità Però mi ha ucciso Lo stesso Non so come Ma mi ha fatto fuori Ugualmente Dettagli Ho visto un mingotto Benissimo Allora Qua continuano a perdere L'arco Ragazzi Questi qua Sono camperati qui Vorrei fare una partita Anch'io Abbastanza camperona Però Devo prima avere L'arco Perché In modo che poi Possiamo comunque Difenderci ragazzi Perché Non è facile la cosa Anche perché Dopo un po' Al marder Ah Niente Abbiamo vinto Abbiamo vinto Stavo dicendo Al marder Dopo un po' Gli danno la bussola Se non ce l'ha già Dall'inizio Non lo so Perché non l'ho mai fatto E E quindi Ci troverebbe a prescindere Avendo un arco Possiamo difenderci È finita anche questa partita Ragazzi Tutti innocenti Siamo stati ovunque Facciamo l'ultima partita Di oggi E E poi ci salutiamo Ragazzi Siamo il detective Per la prima volta Siamo il detective L'ultima partita Vediamo se riusciamo A vincerla Stiamo molto nascosti E stiamo Attenti A chi potrebbe essere L'assassino Attenzione Non teniamo subito In mano l'arco O invece sì No Io direi Teniamolo subito in mano Ok Facciamo così E stiamo molto attenti A chi potrebbe essere Non stiamo L'ho sentito È lui È lui Sei tu Stai molto attento A quello che fai Ho sentito Che ha ucciso Controli Ah io ho l'optifine Posso guardare Bene da lontano Lo so Questo qua È un cheat Ragazzi Però Mi sono dimenticato Di toglierla E non posso farci niente Per questo video Ce la teniamo così Non so se i lingotti Mi danno frecce Perché io non ho frecce Non ho proprio frecce Quindi devo prendere Anche i lingotti Ragazzi Mannaglia Allora facciamo così Potremmo anche star camperati Però vabbè dai Siamo Lo sceriffo Non mi sembra il caso Di nasconderci Allora Ne abbiamo due Ne quanti me ne servono Per avere una freccia Tre E mannaggia Non lo so Vabbè noi continuiamo Stando sempre molto Ecco Ci ha ucciso Lo sapevo che era lui Vaffanculo Ah Basta Fine Ma per questo video è tutto ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse lasciate un bel mi piace Condividete il video Mi raccomando Se siete ancora iscritti Iscrivetevi Entrate nel server Perché quando ci sarò Potremo fare delle partite insieme Noi ci vediamo in un prossimo video In una prossima live Ciao a tutti maghi e maghe